3 numeri su Firenze, questo è il satto che vi dite, 13 e il 31, ok? E che cosa vi devo dire? Domani sarà l'altro, auguri per il 10 e l'8 selare, amici miei. Voi che avete l'opuscolo del 10 e l'8 selare, voglio far vedere cosa è uscito. 5, 6, 8, 9 e 3, 7 sopra, e il numero d'oro, 3. A secondo colpo di gioco abbiamo spaccato di nuovo, è incredibile ma bello. Eppure è così, amici miei, domani per me saranno grandi festeggiamenti per questa giocata personale e degli altri amici della piattaforma, perché lo scontrino, bisogna farlo vedere alle 8 e 5, appena escono i numeri, non il giorno dopo. Scontrini degli altri, è meglio sempre proprio, vabbè, ciao!